prova di zombie terror per megadrive un'avventura grafico testuale io non ho mai giocato tanto a questo genere di videogiochi non li so giocare vi ho messo il video per segnalarlo e in descrizione c'è il link se volete scaricarlo il video è la registrazione di una partita in cui faccio un po' pena giocare ho appena pubblicato anche il video della versione per sega master system e vi dirò mi è sembrata meglio quella per sega master system quando si incontrano gli zombie c'è un pulsante per attaccare e uno per scappare però come ho detto anche nel video per master system gli scontri contro gli zombie mi sembrano veramente casuali grazie per la visione grazie 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 grazie